Appartamento in centro, con due camere da letto, bagno finestrato, ripostiglio lavanderia, sala, cucina, balcone e posto auto all'interno di una corte privata. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. La casa si trova su Corso Baccarini e l'appartamento è al primo ed ultimo piano e si affaccia su due corte interne, quindi lontano dai rumori della strada. L'ingresso è sul soggiorno, da cui si accede anche alla cucina a vista e al bellissimo balcone che si affaccia sul cortile privato. In più troviamo due porte, una che porta alla camera da letto matrimoniale e dal bagno finestrato con box doccia e l'altra che porta alla camera singola, a un comodissimo ripostiglio lavanderia e alla botola che collega tutto l'appartamento al sottotetto. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!